Ciao! Allora, oggi parliamo ancora della CBTE, quindi della Cognitive Behavioral Therapy Enhanced, perché nel video precedente sull'argomento vi avevo appunto iniziato a parlare dei fattori di mantenimento specifici della psicopatologia, dei disturbi dell'alimentazione. Quindi oggi continuiamo a parlare appunto di questi fattori di mantenimento, finiamo di dirvi così nel prossimo video vi riesco a dare una panoramica della CBTE, che è poi la teoria sulla quale si basa questa terapia, è quella che è stata formulata da Fairburn e dalle Grave. Allora, i fattori di mantenimento che non avevamo ancora detto sono gli episodi bulimici, ricordiamo un po' che cosa sono questi episodi bulimici, sono costituiti dalla sensazione di perdita di controllo e dal consumo di una grande quantità di cibo, il tutto avviene in un breve lasso di tempo. E quali sono i processi che favoriscono il mantenimento di questi episodi bulimici? Sono il fatto che per esempio le persone seguono delle regole dietetiche rigide, ferre ed esagerate, quindi tendono anche, cioè che sono effettivamente impossibili da seguire, quindi tendono ad interpretare una qualsiasi violazione nell'aderenza a queste regole come una mancanza di autocontrollo, evidente proprio. Quindi la conseguenza è che tendono poi ad abbandonare il controllo dell'alimentazione e ad abbuffarsi. E un altro processo che favorisce gli episodi bulimici è dato da, per esempio, dall'indursi il vomito oppure dall'abusare in maniera appunto inappropriata di diuretici rassativi. Oppure gli episodi bulimici sono anche associati, per esempio, a degli eventi particolarmente negativi o a degli stati emotivi intensi o intollerabili comunque per la persona. E poi un altro fattore di mantenimento dei disturbi dell'alimentazione è dato dall'esercizio fisico eccessivo e compulsivo. Cosa vuol dire eccessivo e cosa vuol dire compulsivo? Allora eccessivo vuol dire che la persona appunto svolge questo esercizio che interferisce con le attività importanti della sua vita e che viene svolto in contesti inappropriati e inadeguati proprio per l'esercizio fisico e che per esempio continuano a svolgerlo nonostante magari ci sia un infortunio oppure ci siano delle complicazioni mediche. Mentre esercizio fisico compulsivo vuol dire che ha la priorità su qualsiasi altra attività, per esempio sulle prestazioni scolastico, sulle prestazioni lavorative e che crea alla persona anche nel caso in cui fosse per esempio rinviato ad un altro giorno, ad un altro momento, un grande senso di colpa e anche una forte ansia, no? Il fatto di rinviarlo. E l'esercizio fisico eccessivo e compulsivo può avvenire in tre modi o per esempio introdotto nella routine, quindi magari la persona cerca di stare in piedi tutto il giorno, di non sedersi mai, oppure mentre studia cerca di stare in piedi piuttosto che seduta, oppure cerca di fare sempre le scale invece che prendere l'ascensore, oppure può essere esercizio fisico inserito nelle attività sportive, ricreative o competitive, quindi per esempio andare in palestra tre volte al giorno, quindi farne di più rispetto al normale, ma tanto di più. Oppure può essere quello svolto in modo anomalo, in modo strano, quindi per esempio fare un numero esagerato di addominali, un numero estremo di flessioni, ecco. L'esercizio eccessivo e compulsivo si suddivide in due categorie, quello per il controllo del peso e della forma del proprio corpo, che a sua volta si suddivide in due sottocategorie, è quello per modulare le emozioni. Quello per controllare il peso si divide in esercizio fisico eccessivo compulsivo di compenso e non di compenso. Quello di compenso va a compensare un apporto calorico eccessivo, ma eccessivo che può essere realmente eccessivo, quindi che veramente la persona ha mangiato di più, oppure percepito, quindi la persona non ha mangiato di più, però percepisce quella sensazione di aver mangiato di più. Quindi per esempio sono quelle persone che magari non mangiano se prima non hanno fatto esercizio fisico, oppure cercano di creare una sorta di banca di calorie, tra virgolette, che poi gli possa concedere di mangiare dopo. E poi abbiamo quello non di compenso che viene svolto di routine sempre, indipendentemente dall'assunzione di cibo. Oltre all'esercizio fisico, altro fattore di mantenimento è dato dai comportamenti eliminativi. I comportamenti eliminativi, come abbiamo già detto anche precedentemente, sono il vomito autoindotto, l'uso di lassativi, diuretici, questi sono quelli più comuni, e c'è anche lo sputare, anche se più raro. E quali sono le funzioni dei comportamenti eliminativi? Sono quelle di compensare, quelle principali sono quelle di compenso degli episodi bulimici e non di compenso, quindi indipendenti dall'assunzione di cibo. Mentre le altre funzioni di questi comportamenti sono, per esempio, gestire la sensazione di sentirsi pieni, oppure gestire la sensazione di essere gonfi, o cercare di avere a tutti i costi il ventre piatto o concavo, oppure modulare le emozioni. E un altro fattore di mantenimento è il check del corpo, quindi il controllo del corpo. E questo avviene, metodi più comuni, diciamo, di check del corpo sono il pesarsi costantemente, il misurare le dimensioni del proprio corpo con un metro a nastro, oppure il pizzicarsi per controllare se si è grassi, il prendere ripetutamente in mano il grasso sottocutaneo per vedere quanto si è grassi, oppure il guardare da seduti quanto si allarga la coscia o se sporge l'addome per vedere sempre quanto si è grassi, oppure da sdraiati a pancia in su, appoggiare il righello tra le due creste iliache per verificare che non tocchi la superficie dell'addome. Le creste iliache sono poi le osse superiori dell'anca e toccarsi le ossa. Ecco, questi sono i comportamenti più comuni. In ogni caso è stato visto che nella maggior parte dei pazienti, chiedendoglielo come si sentivano appunto dopo il check del corpo, la maggior parte dei pazienti si sente comunque male, cioè non è che ha un miglioramento delle emozioni, magari dal punto di vista emotivo, dopo aver messo in pratica appunto il check del corpo. Altro fattore di mantenimento è l'evitamento del corpo, quindi evitare per esempio di andare in situazioni dove c'è un'alta probabilità di essere esposti, come per esempio la spiaggia, la piscina o la palestra, evitare il contatto fisico con gli altri, indossare abiti larghi per nascondere il proprio corpo, evitare di esporre il proprio corpo appunto agli altri e nascondersi ecco, evitare di pesarsi anche e evitare gli specchi. E poi il sentirsi grassi, quindi la sensazione appunto di essere grassi. Il problema di questa cosa è che poi le persone equiparano la sensazione di essere grassi con l'essere grassi e quindi dopo la conseguenza è poi che si tende a controllare l'alimentazione e a controllare il peso. Quindi con questo abbiamo terminato di elencare appunto quello che va a mantenere i disturbi del comportamento alimentare. Nel prossimo video poi vi faccio una panoramica della CBTE che appunto risulta essere molto molto efficace per i DCA. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!